che figa questa caneca è la caneca fa porfa una caneca è grossa ma non capire qua o il peggio è grossissimo o c'è un caneca qui vai a sinistra sono tutti grossi 60 kg sono tutti così adesso è quasi sotto l'hai alzato un po' l'alzato firma firma 10 minuti qua che figli per non hai allora allora ora 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 si sa che materiale guarda neanche di ferro c'è la carbonio carbonio però pieno è un po' l'alzato lo riprendete così altrimenti c'è il sole allora aspetta ma non fai più balla andare in punta eh non fai più balla andare in punta bello bellissimo oh cacchio qua cacchio questo qua è 80 kg 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 avviso Italia 70 kg anche la lampa ahahah no porta le canne prova per misurarlo per misurarlo devo tirarlo avanti eh metti dopo di lungo di la fino avanti che pianto in sicura del bar eh punta vediamo attenzione un bel nylon eh si come stai disegnando si che legroso ma quella ma che stringo questa sonapinda dentro lì sempre c'è il metro no ma sai sarà uno di un'altra ma ti cattaccia sulla testa complete mi fai vedere ne sono fratelli ma lemmo con ahahah a che si capisce cazzasura a chi cattaccia su